pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati con la solennità di cristo re dell'universo si chiude l'anno liturgico per dirla in modo semplice questa solennità ci ricorda che nell'universo non regna il caos ma tutto è condotto dall'amorevole signoria di cristo risorto il vangelo ci offre uno spaccato del dialogo tra pilato e gesù secondo la prospettiva di giovanni potremmo articolare questo incontro in sette scene qui siamo nella seconda scena che verte proprio sul tema della regalità abbiamo due modi di concepire la regalità uno secondo il mondo uno secondo dio la regalità che gesù propone potremmo dunque dire il suo modo di esercitare il suo potere il suo modo di governare il suo modo di relazionarsi con gli altri e servire gli altri ha due caratteristiche fondamentali la non violenza e la verità vediamo un po pilato ad un certo punto chiede a gesù se tu il re dei giudei come a dire se tu che hai la pretesa politica di governare sui giudei e che magari vorresti anche ribellarti all'impero di roma dopo un breve scambio gesù dice il mio regno non è di questo mondo se no i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di qua giù ecco il regno del signore non è di qua giù non perché riguarda cose dell'aldilà ma soprattutto perché non segue la logica di qua giù di questo mondo se ci pensiamo il potere in questo mondo è spesso gestito con violenza con prepotenza opprimendo scatenando guerre vige la legge del più forte il regno di dio invece è un regno d'amore di giustizia e di pace potremmo dire che è il regno della non violenza se ci pensiamo miei cari il nostro modo di agire purtroppo è spesso intriso di violenza c'è la violenza fisica avvengono purtroppo casi di violenza sessuale c'è la violenza verbale fatta di urla di minacce di calunnie di offese anche solo nelle liti quotidiane pur di aver ragione sull'altro c'è la violenza psicologica come la mancanza di rispetto la manipolazione della verità lo stalking c'è anche la violenza economica che mira a ledere l'altro togliendogli la legittima autonomia vi è anche una violenza online digitale che si riferisce al tentativo di danneggiare una persona attraverso l'uso di internet insomma miei cari le forme di violenza e le occasioni per esercitarla non mancano e spesso purtroppo vi si ricorre pensando che essa possa giovare a risolvere delle situazioni o a imporre le proprie visioni il signore invece ci propone un altro regno un altro modo di sentire e agire un modo non violento un modo di relazionarsi mite che bella la virtù della mitezza che unisce in sé gentilezza pazienza e umiltà gesù stesso l'ha mostrata e l'ha insegnata a noi suoi discepoli come ha detto bene padre ermes ronchi gesù non ha mai esercitato la violenza non ha mai arruolato eserciti non è mai entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero dove si fa violenza dove si abusa dove il potere il denaro e l'io sono aggressivi e voraci gesù dice non passa di qui il mio regno in questo mondo i servi dei re combattono per i loro signori non nel suo regno anzi egli è il re che si fa servitore dei suoi un re che non versa il sangue di nessuno versa il suo sangue non sacrifica gli altri per affermare se stesso ma sacrifica se stesso per salvare gli altri e nel vangelo la mitezza non è sinonimo di debolezza o di mollezza ma è piuttosto una grande forza interiore che si nutre dell'amore e del rispetto per gli altri d'altronde san paolo ci ha detto che l'amore non fa alcun male al suo prossimo ecco abbiamo tutti bisogno miei cari di riscoprire questa virtù e soprattutto di esercitarci in questa virtù e tre strade per farlo importanti sono la preghiera per avere un cuore colmo di dio il lavoro su noi stessi per imparare a gestire controllare le passioni le pulsioni e l'amore verso gli altri a cominciare dal rispetto verso gli altri ricordo una piccola storia molto significativa un padre anziano ormai colpito da demenza senile andò al parco con suo figlio ormai adulto ad un certo punto sentendo cinguettare il padre chiese al figlio figlio mio che cos'è quello è un passerotto papà dopo qualche minuto figlio mio che cos'è quello è un passerotto papà dopo un po per la terza volta il padre chiese figlio mio che cos'è quello il figlio sbottò te l'ho già detto è un passerotto ma sei rimbambito il padre in uno sprazzo di lucidità trasse dal taschino un vecchio diario e iniziò a leggere oggi ho accompagnato mio figlio di cinque anni al parco per 23 volte mi ha chiesto papà che cos'è quello e io per 23 volte gli ho risposto è un passerotto figlio mio e dopo ogni risposta gli ho dato un abbraccio eccomi cari abbiamo tutti bisogno di esercitarci nell'amitezza e un punto di partenza potrebbe proprio essere esercitarci alla gentilezza controllando il tono e le parole che diciamo perciò il papa ricorda spesso agli sposi quelle tre parole semplici ma importantissime per vivere meglio la quotidianità posso scusa e grazie anziché imporsi posso che ne pensi poi davanti ai gesti di servizio all'aiuto concreto dell'altro anziché dare tutto per scontato dire grazie e quando ci si rende conto di aver sbagliato scusa ora miei cari passiamo alla seconda caratteristica di questa regalità che ci propone gesù che è la verità pilato chiede a gesù dunque tu sei re rispose gesù tu lo dici io sono re per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità noi subito potremmo pensare alla verità in senso filosofico ma nel vangelo secondo giovanni la verità ha anzitutto un aspetto rivelatorio cioè gesù è come se stesse dicendo io sono venuto nel mondo per dare testimonianza al padre per rivelare il vero volto di dio non a caso lui dirà chi vede me vede il padre io sono venuto a rivelarvi chi è dio qual è la verità dell'amore e come si vive da suoi figli ora miei cari in semplicità tutto questo ci fa chiedere e io per che cosa sono venuto nel mondo per dare testimonianza a chi o a che cosa io posso vivere per dare testimonianza a me stesso per cercare di apparire o emergere oppure anche io posso scoprire un senso più profondo posso lasciarmi raggiungere da quest'amore grande e vivere per testimoniare la verità l'amore di dio per me e in lui essere continuamente alla ricerca della verità cercare il vero il buono il bello in ogni cosa noi vogliamo chiedere questa grazia al signore essere veramente discepoli della verità essere uomini e donne innamorati della verità tant'è che in conclusione gesù a pilato dirà chi è dalla verità ascolta la mia voce era anzitutto un sottile invito per pilato perché si lasciasse condurre da quella verità che aveva dinanzi a sé in cristo che arriverà a dire nei discorsi di addio io sono la verità ma queste parole ci ricordano anche che chi ha origine dalla verità chi ha un cuore aperto alla verità sta già ascoltando la voce di dio sì la verità una sua voce perché non è frutto di ragionamenti di questo mondo ma ha un volto un nome e questa verità miei cari non è il potere il successo il possesso gesù ci rivela qual è la verità che ci rende liberi come ha detto bene don fabio rosini tanti uomini e donne sono stati liberati da questo mondo perché hanno ascoltato e servito cristo molti si millantano per suoi seguaci ma non mostrano di esserlo perché falliscono patentemente sulla prova della libertà essendo ricattabili asserviti conniventi con i poteri di questo mondo poteri da quattro soldi che minacciano quelli che non hanno la verità nel cuore chiunque partecipa del potere di questo mondo è in realtà uno schiavo non possiede ma è posseduto non governa ma è governato a gesù invece il mondo non fa nessuna paura per lui il mondo è una cosa molto piccola ha da dire qualcosa al mondo non ha da chiedergli proprio nulla entrasse questa verità nel nostro cuore avessimo questa indipendenza dalle cose potessero i giovani crescere con questa solidità fossero gli anziani saggi secondo questa sapienza cari fratelli e sorelle chi è dalla verità ascolta la mia voce che davvero la voce del signore possa essere da noi ascoltata amata custodita e seguita e allora passo dopo passo diventeremo anche noi testimoni credibili e non violenti della verità di quell'amore più grande dal quale veniamo e per il quale viviamo che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti che ci sono